Signora, stia tranquilla e resta in buone mani. Lo so che è la prima volta che tira un dente, però non ci vuole nulla. Un po' di relax, si rilassi signora. Ecco, incominciamo subito. Dai, su, apro la bocca. No, dottore, dottore, un attimo, respira, respira. Bene, dai, respiri, si rilassi, faccia così. Brava signora. Eh, eh, a posto? Eh, eh? Sei rilassata? Signora, dobbiamo fare intretta perché ho rilasso il paziente. Va bene? Procedo, procedo, eh? Brava. Stia tranquilla, apro la bocca. No, dottore, dottore, dottore. Signora, eh, mo' c'è tumo. Signora, dai. Dottore, io preferisco fare un figlio, anzichetto del mio dente. Ti riferisci fare un figlio? Sì. E allora provvediamo subito, cara signora. Fa un attimo. Sì, sì, rimassi. Dottore, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì.